Dietro la notorietà di un vino si nascondono spesso secoli di grande esperienza, di grande capacità di leggere il territorio. Chiarli è la più antica azienda produttrice di vini tipici dell'Emilia Romagna, fin dal 1860. Il loro Lambrusco Premium, Vecchia Monena, rappresenta una delle interpretazioni più eleganti, convincenti, straordinarie, capaci di dare dignità a quello che è uno dei grandi classici dell'enologia italiana. Vinificato in autoclave, con una presa di spuma e un successivo affinamento che si prolungano per almeno tre mesi, si presenta nel calice di un meraviglioso, luminosissimo colore rubino, urlato da un perlage fine e persistente. Naso dinamico, pimpante, finissimo. Immediati riconoscimenti di fragolina di bosco, di lampone, di leggere sensazioni floreali, soprattutto di geranio e rosa canina, in una impronta leggermente vinosa. Gusto secco, grande freschezza che a bordo lingua rievoca una sensazione quasi di arancia rossa, di arancia sanguinella. Bollicine molto ben integrate, che forniscono al sorso una cremosità e al tempo stesso lo distendono in una lunga persistenza. Il Lambrusco è quasi uno dei prototipi dei vini cosiddetti da tutto pasto, ma in particolare lo suggeriamo sulla classica pizza napoletana, oppure su un piatto di cappelletti o agnolotti al ragù e magari anche su un bellissimo, fragrante carrello di bolliti.